più o meno questa è la sensazione che si ha ogni volta che scrivo la storia della mia vita tanta gente pensa che quando sei troia per divertirti sia una cosa che può magari durare soltanto una sera o un giorno no può anche durarti una settimana la cosa è che ogni volta che qualcuno vede si trova che non sa che cosa fare pensa merda non c'è niente che posso fare e si sto parlando del mio grosso cazzo prendi il cazzo lo riprendi in mano tranquillamente fidatevi all'inizio quando proverete starete una merda ma non preoccupatevi andrà tutto bene basta soltanto concentrarsi ci vediamo domani con il mio grosso cazzo e con qualcos'altro bella in verità tutto quello che ho detto sono stronzate però l'importante è crederci quindi alla fine è come è come la vita quando diventa dura ciao 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 ciao